Sono 20 milioni di euro che vengono appunto finanziati attraverso lo strumento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 20 milioni importanti tra lavori di muratura e tecnologia che acquistiamo. Da Belluno a Feltre, da Pieve di Cadore ad Auronzo, cantieri prossimi o già in corso nelle strutture ospedaliere dell'Ulse Dolomiti che batte sul tempo le scadenze indicate dai fondi PNRR. 16 milioni di euro riguardano la realizzazione di case, ospedali di comunità e dei COT, cioè delle centrali operative territoriali che saranno l'interfaccia principale fra l'utente e i servizi sanitari ospedalieri. Veramente una boccata d'ossigeno importante per la Ulse 1 Dolomiti che con questi 20 milioni appunto di interventi riesce a sistemare delle situazioni importanti. Entro il 2024 saranno completate le case di comunità a Belluno, Pieve di Cadore e Feltre, gli ospedali di comunità al Padiglione Guarnieri di Feltre, ad Auronzo e ad Agordo, mentre le centrali operative territoriali a Belluno e Feltre possono considerarsi pressoché concluse. Altri 4 milioni di euro, grazie ai fondi PNRR, serviranno per l'acquisto di apparecchiature per le radiologie di Belluno e di Pieve di Cadore, senza contare i cantieri già in corso per la sicurezza delle strutture ospedaliere, antisismica e antincendio. Un grande lavoro per la struttura tecnica dell'azienda sanitaria bellunese che sta affrontando con attenzione i problemi comuni alla sanità pubblica italiana legati alla carenza di professionisti e sta lavorando per rispondere alle esigenze del territorio, attivando integrazioni con altre realtà della regione, soprattutto Padova e Treviso. Penso, spero che questo tipo di interazione tra aziende sanitarie dia i frutti che mi pongo di ottenere. Sanità vicino al territorio, sanità vicino alla gente, questo potrebbe essere il suo motto? Sì, il motto è sanità di prossimità. Cioè la gente di montagna ha necessità di una sanità appunto di prossimità, che vuol dire portare il più vicino possibile i servizi.